Come sempre, al momento noi parliamo di notizie uscite a mezzo stampa e quindi affrontiamo insieme una discussione sulla rassegna stampa, ma non ci sono elementi di indagine a carico di nessun membro del Governo, nemmeno del sottosegretario De Vincenti. Quindi al momento non ci sono indagini aperte, non ci sono procedimenti giudiziari.